Sono i comuni a costituire il paese e dare loro la fiducia significa ridarla ai cittadini. Ne sono convinti i vertici del lanci nazionale, lo ha ribadito anche il presidente regionale dell'associazione Pompilio Sciulli, aprendo i lavori della riunione con i sindaci molisani, l'occasione per fare il punto su quanto fatto in un anno e per ribadire alcune cose. Ad esempio dei rimborsi della neve di due anni fa, della famosa nevecata di due anni fa, dove i comuni hanno anticipato delle somme e oggi si trovano a dover ricevere decreti ingiuntivi da parte delle ditte che hanno lavorato per garantire il servizio, però non sono state pagate. E questo la dice lunga su quello che potrebbe accadere se dovesse capitare questa stagione invernale, quello che è successo due anni fa. Sul punto il governatore Frattura, intervenuto alla manifestazione, ha sottolineato la necessità di studiare insieme un piano per risolvere la questione e in generale di scegliere la via del confronto per affronteggiare i problemi. Sciulli ha poi rimarcato come Lanci non si sia fatta imporre dall'alto decisioni sul dimensionamento scolastico su cui sta lavorando, ma non solo. Mi riferisco anche in particolare al discorso del comune di San Giuliano di Puglia, di Bonefro, Colletorto e Santa Croce di Maliano, dove il governo sappiamo che ha deciso di utilizzare il relativo villaggio per portarvi i rifugiati. Ecco, Lanci ha saputo raccogliere le istanze dei vari sindaci del cratere, di questi comuni interessati in particolare, per non recepire in maniera passiva questa decisione del governo, ma essere parte attiva, nel senso di sì, li vogliamo, vogliamo accogliere queste persone, però le nostre problematiche sono queste, i nostri problemi che affrontiamo tutti i giorni sono questi, quindi vediamo come costruire insieme la cosa. Al tavolo presente anche Fausto Pepe dell'Ufficio di Presidenza Nazionale del Lancio e Micaela Fanelli, pronti a portare a livello nazionale le istanze locali. Altro punto cardine è quello del patto di stabilità che strozza soprattutto i piccoli comuni e sulla fiscalità municipale. Adesso siamo stati costretti a mettere una tassa, la Tares, che fra tre mesi dovremo togliere, perché sappiamo tutti che entrerà in vigore la Tax Service, la famosa tassa che dovrà comprendere l'Imu e la Tares. Però ecco che cosa abbiamo fatto, che cosa hanno dovuto fare i sindaci, hanno dovuto mettere questa tassa, aumentarla del 30%, perché è un 30% che i comuni prendono e trasferiscono al governo, quindi noi siamo diventati gli esattori del governo.